Rocco! Rocco Santamarini! Salve, ciao! Ma ora fai un autografo? C'è un foglietto con una penna? No. Ah, allora... Ma non lo tiene già fatto? Già fatto? No. E no, facciamo la fotografia che c'è qua. Pronti? Facciamo in qua? Sì, volentieri. Sorridi, vai. Prego. Leva dopo un anno. Ma che è? È la Madonna del Sacro Mondo. La protettrice della Basilicata. Ammazza. Ma è nera? È nera. Rappresenta un anello di congiunzione tra l'Oriente e l'Occidente. Ma a te chi ti ha detto questo? Lo indirisco io, personalmente. Ma tu? Che vai facendo da questa parte? Solo solo? Niente, sto qua. Ti sei perso? No. Stai in crisi d'identità? Ma che crisi d'identità? Ma che dici? No. Anzi, sto facendo una cosa interessante con degli amici. Stiamo andando da Maratea a Scanzano Ionico a piedi. Quindi, insomma, è una cosa... Un'altra progestione? Eh... Sì, diciamo di sì. Bello. Una bella cosa. Ma... A chi è venuto in mente questa idea? Un amico mio. Tocca quest'ora è utile.